Bari di arco in arco non poteva avere titolo più indicato la nuova iniziativa dell'associazione di promozione sociale Pugliarte. Giovani storici dell'arte ci accompagnano ogni weekend alla scoperta dei tesori di Bari. Stavolta protagonisti sono gli archi del borgo antico, ce ne sono almeno una quindicina, alcuni difficilmente databili, ma ognuno racconta una storia spesso legata alla famiglia di cui portano il nome. C'è l'arco di Corte Santrigiano o Corte Trigiani che ha tutta una storia probabilmente legata alla erronea interpretazione del nome, o l'arco di Corte Notarmorea, l'arco Giandomenico Petroni, l'arco Santo Nofrio dove si racconta che ci fosse la chiesetta di San Nicola del Porto dove una leggenda dice che sono state sepolte le ossa di San Nicola non appena giunte. Ma molti di questi portano il nome di famiglie, famiglie nobili o no? Sì, l'arco per esempio di Corte Lamberti, la famiglia Lamberti era una famiglia nobile citata anche da Dante e spesso sono strade o archi che portano il nome di famiglie arrivate, giunte qui. I più famosi tra i baresi sono l'arco alto, l'arco basso, tra le porte d'ingresso alla città vecchia, situati di fronte al Castello Svevo oppure l'arco della Meraviglia. L'arco della Meraviglia si chiama così perché la famiglia milanese dei Maraviglia giunse al seguito di Isabella d'Aragona ma in realtà questo è stata l'occasione per creare una bellissima leggenda che è la nostra leggenda dei nostri Romeo e Giulietta, il Romeo e Giulietta Baresi.